Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare antimafia. Qual è oggi lo stato del fenomeno mafioso in Italia? Posso che le mafie siano una gravissima patologia per lo stato democratico? Bisogna riconoscer che ancora oggi lo stato democratico non ha esattamente coscienza della gravità della patologia stessa, per cui si sottovaluta enormemente la virulenza, la tossicità dei fenomeni mafiosi. Un esempio su tutti, noi questo pomeriggio siamo stati contenti perché abbiamo appreso che la BCE ha prorogato fino a marzo del 2022 il famoso piano PEP per per l'acquisto di titoli del debito sovrano di tanti paesi europei per ulteriori 500 miliardi. Guarda caso, 15 giorni fa abbiamo saputo che un certo Roberto Ricordare, intercettato, Roberto Ricordare è un imprenditore informatico di Locri che è scomparso dai radar da più tempo e insomma Roberto Ricordare, intercettato, diceva di poter muovere tranquillamente 500 miliardi di euro da investire immediatamente perché la pandemia rappresenta una grandissima possibilità di affari per appunto le organizzazioni mafiose. Un pochino mi ha ricordato quanto è avvenuto in occasione del crollo del muro di Berlino, allora quando a seguito di intercettazioni telefoniche ed ambientali abbiamo saputo che uomini di Cosa Nostra dicevano fra di loro compra tutto perché sta avvenendo qualcosa di irripetibile e bisogna essere i primi ad arrivare su quei mercati. La pandemia sta facendo collassare tantissimi settori economici, chi ha liquidità in questo momento può immediatamente intervenire ed acquistare. Lo Stato italiano ma qualunque Stato nazionale si trova in difficoltà a recuperare 50, 10, 80 miliardi di euro le organizzazioni criminali Cosa Nostra, Ndrangheta e Camorra hanno già sul piatto 500 miliardi di euro per investirli cash. Proprio in questo periodo appunto con le difficoltà legate appunto alla pandemia. Come si fa a contrastare questo rischio di infiltrazioni per poi delle organizzazioni criminali nella gestione dei fondi per la ripresa? Guardi, io sarò molto caustico. Tutti sappiamo cosa fare. Se però non si fa è responsabilità di coloro che sanno cosa si debba fare. Le faccio un esempio su tutti. Quando ero membro dell'opposizione nella passata legislatura, nel durante di un'audizione davanti alla Commissione Giustizia dell'allora e dell'ora procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero Derao, ho sentito lamentarsi la massima autorità giudiziaria italiana impegnata nel contrasto alle associazioni mafiose perché a tutt'oggi le banche dati delle amministrazioni pubbliche più rappresentative e più importanti a livello economico, faccio un esempio, le Camere di Commercio oppure l'Agenzia delle Entrate oppure la stessa Banca Dati nazionale della Procura nazionale antimafia non sono capaci di dialogare fra di loro. Perché? Perché operano con software differenti. Ad oggi la situazione è la stessa. Non le so dire di chi sia nello specifico la responsabilità. le dico che politicamente è certamente una responsabilità di chi ha le mani nella stanza dei bottoni. Io posso proporre e sappia che queste proposte sono state avanzate già in più e più occasioni, formalmente ed informalmente, però non posso disporre. sicuramente ci sarà qualche motivo che impedisce alle pubbliche amministrazioni di far dialogare i loro software, le loro banche dati. Passerebbe semplicemente questo per fare le operazioni preventive in ambito patrimoniale e ci aveva insegnato Giovanni Falcone che è sui patrimoni che bisogna intervenire. Mi faceva venire in mente, dicevo poco fa, mi scusi se l'avevo interrotta, riguardo alla questione Calabria. Lei recentemente aveva detto che la Calabria è recuperabile fin quando lo Stato non affronterà la situazione con piena consapevolezza. Ma questo in termini pratici cosa significa? Allora intanto colgo l'occasione per specificare. Ad una precisa domanda del giornalista la Calabria è irrecuperabile? La risposta del sottoscritto è stata la Calabria è irrecuperabile fin quando lo Stato centrale non decide di investire massicciamente in istruzione e cultura della legalità e della dignità delle persone e dunque dei calabresi. Se i calabresi per primi, privi di autostima, si svendono a qualunque potere non democratico realizzando quello che un loro proverbio, che io ho imparato e che cito molto spesso, profetizza, il proverbio in questione è che chi pecora si fa il lupo se la mangia. Se un popolo qualunque esso sia non decide di battersi per la sua libertà, beh, mi lasci dire che nella storia passata e recente è difficile incontrare benefattori che dotati di privilegio si disfano dello stesso. Forse c'è stato Francesco D'Assisi, ma poi tutta la storia contro la sopraffazione è stata una guerra di emancipazione ed è stata anche combattuta con forza, in alcuni casi con sacrificio e con violenza. Ma la libertà la si conquista anche a costo del proprio sangue. Il fenomeno, un altro fenomeno che va a vantaggio sicuramente della criminalità organizzata è quello dei colletti bianchi che si mettono al servizio delle mafie. Come si fa ad intervenire in questo caso? Allora, questo è un tema che è stato citato, per esempio, dall'ultimissima pubblicazione di Sebastiano Ardita, Mafia S.p.A., se non ricordo male questo è il titolo. Ecco, provo un pochino a rispondere usando un esempio. noi siamo abituati a perseguire e con durezza, questa è la nostra speranza, coloro che dovessero risultare affiliati all'organizzazione mafiosa e questo lo facciamo perseguendoli in funzione del 416 bis del codice penale, associazione a delinquere di stampo mafioso. Però dimentichiamo che nel nostro codice c'è anche un altro articolo, il 110, concorso esterno in associazione mafiosa, in associazione a delinquere di stampo mafioso. Il concorso esterno è un reato meno frequente ma mi lasci dire più fetente perché viene fatto ad hoc per permettere a qualcuno che non è organico, non è in trane all'associazione ma che vuole approfittare dei vantaggi garantiti allo stesso dall'associazione di stringere appunto rapporti con la stessa e ottenere un vantaggio per poi nuovamente scomparire. Ma questo qualcuno che trae un vantaggio da questa relazione seppur momentanea concorre a rafforzare ulteriormente l'associazione perché l'associazione dà il suo aiuto, dà il suo contributo in virtù di un doubt des non lo fa gratis et amore dei e pertanto rafforzando l'associazione e la presa criminale che la stessa ha sulla società, questo qualcuno molto spesso con un colletto bianco come quello che adesso stringo, sta alimentando una forza criminale che sta sottraendo diritti, democrazia e libertà a cittadini, lavoratori, persone. Quali sarebbero le ulteriori misure normative che lei auspica per il futuro? Le faccio un esempio. Noi sappiamo che la criminalità è sempre meno criminalità militare ed è sempre più criminalità economica. Bisognerebbe mettere mano al diritto societario, al diritto fallimentare, al diritto tributario per intervenire in campi in cui le mafie con queste norme continuano a prosperare. Le faccio capire l'evasione fiscale e quindi per esempio la produzione di fatture per operazioni false o inesistenti o sospette. Oppure ancora le banche a rotte semplici ma anche e soprattutto fraudolente. Oppure ancora intestazione fittizia di beni. La pena minima è prevista in due anni. Fin quando non si arriva a quattro anni non si potrà mai scontare pena detentiva. Le organizzazioni mafiose, che non sono fesse, intestano a sedicenni oppure ad ottantaquattrenni, prestanome cosiddetti, perché sanno che la legge questo lo consente. Ma la legge parimenti impedisce a questi soggetti di poter assumere responsabilità penali tali da dover scontare con pena detentiva l'eventuale violazione di norma. Per cui il legislatore dovrebbe diventare un pochino più prudente, un pochino più sagace. Ritorniamo un attimo sulla sanità calabrese. È stato nominato il prefetto Guido Longo dopo una serie di vicissitudini. Qual è la reale situazione della sanità in Calabria e soprattutto quali sono le criticità da combattere? La situazione è che a distanza di dieci anni dall'istituzione del commissariamento, come anche oggi la Corte dei Conti ha certificato, ben pochi passi in avanti dal punto di vista finanziario sono stati fatti e se vi è stato un cambiamento è stato nel peggioramento dei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini calabresi. Noi dovremmo intervenire su due versanti e mi limito a questi due. Dobbiamo ridurre enormemente il ricorso alla sanità privata che attraverso convenzione con soldi pubblici di fatto sottrae risorse alla sanità pubblica e dobbiamo parimenti innalzando la qualità della sanità calabrese, ridurre massicciamente e enormemente l'emigrazione sanitaria. Nel 2019, ultimo anno per cui ci sono dati, la Regione Calabria ha speso 280 milioni di euro per appunto spesare cure e terapie che i calabresi hanno ottenuto da altri sistemi sanitari regionali, magari trovando a Bologna, a Pavia o a Venezia o a Roma medici calabresi valenti e riconosciuti internazionalmente che non hanno però trovato spazio nelle strutture sanitarie calabresi. Chi sa perché. E intanto passiamo a un'altra questione legata alla criminalità organizzata. I boss che continuano da dietro le sbarre a comandare. Come si fa a risolvere questo problema? Restituendo dignità al trattamento cosiddetto e riconoscendo che il 41 bis esattamente come il circuito dell'alta sicurezza non vanno smantellati silenziosamente attraverso un progressivo depotenziamento delle strutture che dovrebbero permettere la qualificazione di queste realtà ma attraverso al contrario un investimento sulle stesse strutture. Le faccio capire con un esempio. Se l'ordinamento prevede che per ogni detenuto in un circuito del tutto particolare come quello dell'alta sicurezza vi debbano essere due tre quattro poliziotti della polizia penitenziaria per assicurare un trattamento particolare beh se oggi piuttosto che due tre quattro ce n'è 1,5 1,2 o 0,9 beh allora il problema è ovvio se noi abbiamo un solo istituto che è stato realizzato per ospitare un settore capace di essere organizzato negli spazi per ospitare detenuti al 41 bis si tratta dell'istituto di pena di Sassari allora poi non ci dobbiamo stupire se all'Aquila o a Novara o a Viterbo ci sono problemi nel settore 41 bis perché ancora non si costruiscono istituti di pena come si dovrebbe fare. A fine legislatura tornerà ad insegnare al suo liceo oppure proseguirà con altri incarichi politici? Allora io spero di poter fare qualcosa di importante per la comunità fosse anche il più umile dei guardarobbieri oppure degli usceri in un'amministrazione pubblica messa bene se questo serve a cambiare il paese il paese ha necessità di operare una rivoluzione culturale oggi faccio una riflessione risulta in funzione delle richieste di scaricare l'app che gli italiani abbiano preferito io per fare gli acquisti ottenendo il benedetto sconto per chi paga con moneta elettronica piuttosto che immuni. Questo significa che forse per noi italiani è più importante far compere avendo lo sconto piuttosto che permettere il tracciamento in caso di pandemia. Poi quando sarà vivendo vedendo io sono a disposizione degli studenti e io stesso nutro il desiderio di tornare sui libri perché le posso garantire che si respira un'aria ben diversa sulle vette del pensiero piuttosto che insomma in questi palazzi. Poi però se ci dovesse essere qualche cosa perché questa per me è tuttora una marcia molto lunga io sto facendo la staffetta spero che ci sia qualcun altro dopo di me perché le posso garantire che è logorante se però ci dovesse essere necessità io sono sempre a disposizione però mi creda non è affatto insomma gratificante basta. Sì ci sono dei momenti in cui si viene gratificati ma ci sono tanti altri momenti in cui anche per parole che si prestano ad essere su mentalizzati si diventa un bersaglio polemico inimmaginabile da parte di forze che evidentemente non ti gradiscono affatto per quello che hai fatto. Grazie a tutti.